Un nuovo apparecchio che combatte i tumori del sangue. Si tratta di Clinimax Prodigy ed è ora operativo all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Il macchinario è stato donato all'ASL dalla AIL, l'Associazione contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Al centro del nostro interesse c'è il paziente amatologico. Questa è una struttura che nel tempo darà dei risultati, speriamo, positivi. Per cui si trattava di completare questo dipartimento di amatologia con questa innovativa e complessa attrezzatura che speriamo di appresto dei risultati. Pescara è così fornita di una nuova arma nella battaglia contro i tumori ematologici. L'innovazione apportata dal macchinario consiste nella manipolazione delle cellule. È uno strumento del tutto innovativo e completamente automatizzato che permette di selezionare frazioni cellulari target mediante un sistema immunomagnetico. Nello stesso tempo, e in questo consiste l'innovazione, permette di incubarle in camere di incubazione per poter essere espanse e poter avere dei prodotti molto purificati a seconda di quello che noi vogliamo ottenere. Questa è l'avanguardia sanitaria. In Italia di questi apparecchi ne esistono solamente sette e saranno molti i pazienti che ne potranno beneficiare. È l'ennesimo intervento che facciamo per sviluppare un sistema di cure che da anni possediamo come azienda e che stiamo perfezionando nella prospettiva di partecipare a un gruppo nazionale che dovrebbe porci all'avanguardia proprio nel paese rispetto a queste nuove tematiche terapeutiche.